Nella città delle acque è tutto pronto per l'edizione numero zero di Nocera Longobarda, manifestazione che avrà luogo dal 15 al 17 luglio, voluta dall'amministrazione comunale e realizzata grazie al contributo della Fondazione Perugia, del gruppo archeologico Nucria e dell'ente palio dei quartieri. Protagonista sarà il cibo, tema che verrà sviscerato in convegni, cene con animazioni, rievocazioni storiche e didattiche, spazio però anche alla musica, alle visite guidate e nei musei cittadini, per seguire quelle tracce che i Longobardi lasciarono a Nocera e per ripercorrere i loro suggestivi luoghi di vita, pieni di cultura, di storie e di tradizioni. Si parte con la cerimonia di apertura agli antichi lavatoi alle ore 18 e 30, cui farà seguito Convivium, cena con animazioni e musica d'epoca dell'ensemble Micrologus. Sabato 16 è la volta del primo convegno europeo dal titolo I cibi dei Longobardi, in cui si susseguiranno in due sessioni, matutina e pomeridiana, gli interventi di importanti studiosi ed archeologi, quali Enrico Ragni, Emanuela Toni, Andrea Santolini, Ivo Picchiarelli, Frank Andrasco, Crtomir Spacapan, Fabio Cavalli, Maria Luisa Cecere, Italo Pizzati, Roberto Bellini, Francesca Pandimiglio, Leonardo Lozzito. Tra gli appuntamenti l'inaugurazione della mostra a cura della scuola di ricamo di Valtopina, il filo della storia Longobardi, la visita guidata nei musei nocerini sulle tracce della popolazione e la cena con la rievocazione storica in piazza Caprera. Domenica 17 luglio il mondo Longobardo alle ore 10 e 30 scenderà in piazza Umberto I con intrattenimento storico didattico. Nel pomeriggio alle ore 16 giochi tribali Longobardi. Appuntamento dunque con la storia e con una manifestazione che punta sullo studio e sull'approfondimento storico, ma che non dimentica l'aspetto ludico, divulgativo e gastronomico.